L'aria umida che ha interessato la regione ha portato delle precipitazioni intense nelle ultime ore, lentamente lascerà la regione. Nella giornata di sabato in quota affluiranno correnti più secche, ma nei bassi strati permarrà ancora un po' di umidità, pertanto avremo una certa variabilità, probabilmente un po' più di sole delle schiarite al pomeriggio, ma non è esclusa la possibilità di qualche locale e debole pioggia. Le temperature cominciano a riprendere sui valori medi del periodo, massime intorno ai 16-17 gradi sulla pianura, qualcosa in meno sulla costa. Domenica si apre probabilmente con variabilità o anche con cielo poco nuvoloso la giornata al mattino, aumenta la nuvolosità nel corso della giornata per un afflusso di correnti umide in quota dal Mediterraneo. Probabilmente nel corso della giornata, oltre ad avere più nubi, avremo anche verso sera qualche pioggia in genere debole, a partire dalla zona costiera. Tempo incerto all'inizio della prossima settimana, in prevalenza nuvoloso coperto, sia lunedì o martedì, con possibili piogge sparse in genere moderate, ancora qualche nevicata in montagna, oltre i 1700-1800 metri di quota. Le temperature rimarranno stazionarie su valori consueti per la stagione, intorno ai 16-17 gradi sulla pianura, intorno ai 14-15 le massime sulla costa. Buon fine settimana a tutti!